4 giocatori hanno l'ordine di tirare forte, sulle battute forte stringiamo la nostra formazione in recensione, lasciamo un metro e mezzo di là e di qua, rischiamo a... E' il momento di quando la tua inizia verrà il pubblico... Tutti di Stankovic, non lasciamo le... Sì, entra perché la riga non c'è, frecciamoli questi vestiti... Ricordati, P6, P5 è nostra, darla sempre più staccata a yam, leggermente della retta... Messa... Arriviamo muro a 3... Non cerca subito l'invadenza... Più forte! Non lasciarmi il buco perché il tentativo di saltare di più è passato in mezzo... Vai per prima! Adesso, ragazzi, con pazienza... Guarda, 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 guarda... Più forte! Chiedeva ancora il sale di putte... Potrebbe ricevere i fuochi e schiacciare, sai, sempre a uno! Sì! Un po' più questo qua, va a te! O ran subtle, ragu, no! Pogli, po' piado... Faj, guarda, 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 guarda! Questo è art Prima parallela. Soprattutto se la palla è più veloce, la mano di Eugliano è bella. Abbiamo, Rafa, nella tua rotazione abbiamo Zaytsev, cercano con la battuta non battere di là. A te. Zaytsev poi fa lo stesso, sempre nella zona loro battuta se è possibile, quando ce l'hai in questo posto lui. Il contraattacco, non passiamo dove è Podrasco, tiriamo l'unico, non con la forza. La zona del conflitto la definiamo prima della battuta, perché è facile la battuta. E ragazzi, fate un respiro profondo e giochiamo la pallavoro. Si parte da dove?